Ciao e benvenuto su Psynel, il podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale. Io sono Gennaro Romagnoli e ti do il benvenuto alla 167esima puntata di questo podcast. Oggi parliamo di gestione delle emozioni e non solo, parliamo di emozioni e di razionalità. E per farlo ti porterò a vedere una semplice tecnica in grado di farti gestire al meglio le tue emozioni ed anche i tuoi pensieri. Si tratta di un mindset particolare che ho creato io sulla base di tanti tanti altre osservazioni che abbiamo fatto in questi anni sulle emozioni. Per cui se segui Psynel sarai avvantaggiato. Bene, iniziamo! Allora, com'è andata la scorsa puntata? Ti è piaciuta l'intervista a Giulio Cesare Giacobbe? Spero che tu sia riuscito ad ascoltarla. Alcune persone mi hanno detto che la qualità dell'audio era davvero molto bassa. Mi scuso, come probabilmente hai ascoltato durante la puntata, ero al telefono con il professor Giacobbe. Quindi ho avvicinato il telefono al microfono ed ovviamente l'effetto è quello che sei riuscito ad ascoltare. Ovviamente spero sia anche passata l'idea che quella meditazione no grazie fosse una provocazione. Perché ovviamente, come sai, la meditazione, cioè conoscere se stessi, è secondo Psynel la base di ogni crescita personale. E come probabilmente saprai, il prodotto di punta di Psynel si chiama MMA o Master in Meditazione Avanzata. Un percorso online, il primo percorso online di meditazione, che si basa solo sulle ricerche scientifiche in questo campo per addestrare davvero la tua mente. Tra poco riaprirà sul blog in descrizione. Troverai tutti i link del caso. Come sempre, ringrazio tutte le persone che hanno condiviso il post della scorsa settimana, il podcast della scorsa settimana, così come tutte le persone che si sono prese la briga di andare su iTunes a mettere la loro review a 5 stelle. Grazie a tutti. Bene, allora, iniziamo. Che le nostre emozioni e passioni siano qualcosa di potente da cui guardarsi è qualcosa che sappiamo da millenni. I filosofi dell'antica Grecia ci parlavano del pathos e di come questo potesse smuovere gli animi delle persone e perfino portarli a decidere di andare in guerra o meno. Quando ascolto una qualsiasi conferenza del grande Umberto Galimberti, gli piace spesso raccontare che i greci pregavano gli dèi affinché non arrivassero, non intervenissero nella loro vita. Perché quando gli dèi arrivavano nel villaggio, creavano lo scompiglio. Ed ecco che pregavano affinché questi dèi non si manifestassero. E sempre secondo Galimberti, gli dèi erano la rappresentazione delle nostre emozioni, dei nostri sentimenti. Tuttavia, il corso della storia non è sempre lineare e la nostra cultura non ha fatto propriamente tesoro degli insegnamenti legati alla gestione delle emozioni dell'antica Grecia che ti ho appena descritto, fino ad arrivare ai giorni nostri con la moderna psicologia che fortunatamente ha iniziato a dire a gran voce che esiste un mondo emotivo e che questo va curato perché si tratta di una parte essenziale di ogni essere umano. Come molto probabilmente saprai, solo oggi si può parlare apertamente di emozioni in modo serio. Non solo perché ne conosciamo il funzionamento psicofisiologico, ma anche perché sappiamo che evitarle, fare finta che non esistano e puntare solo sull'altra parte della faccenda, cioè il pensiero razionale, è limitante e riduttivo. Ci abbiamo dedicato un sacco di puntate e qualche tempo fa ti ho anche parlato di un speciale mindset per la gestione delle emozioni, basato non tanto sul famoso riconosci le tue emozioni e dagli un nome, quanto piuttosto su assumiti la responsabilità di ogni emozione che provi e diventa capace di restare in sua compagnia. Da quando circola il concetto di intelligenza emotiva, ciò che più ha colpito chi se ne occupa è la capacità di riconoscere che tipo di emozione stai vivendo in un determinato momento. Qualcosa di utile, ma sino ad un certo punto. Quando Goleman, Daniel Goleman, uno dei più conosciuti autori in questo campo, ha iniziato a parlare di capacità di riconoscere le emozioni in sé e negli altri, di capacità di nominare queste emozioni, la maggior parte dei miei colleghi si è concentrata su questo aspetto, quello del riconoscimento. Tanto che esistono interi programmi per grandi e per piccini per insegnare a tutti come alfabetizzarsi alle emozioni, come imparare a riconoscere quale tipo di emozione stai provando e in un certo momento tu e le persone che ti stanno di fronte. Ecco, nel mio podcast dedicato al mindset per la gestione delle emozioni non parlo di questa nominalizzazione. È vero Genna, ci avevo pensato che mancava quel pezzo classico, anche se un po' ne avevi parlato. C'è qualche motivo particolare per cui non l'hai raccontato? Allora, i motivi sono tanti. Il primo è la mia convinzione che a volte etichettare i nostri processi interiori non sia la strategia migliore. Ed il modo più semplice per spiegarmi è quello di vedere il cervello a due velocità. Come probabilmente saprai, una delle distinzioni tra razionalità ed emotività è che la prima sia consapevole mentre la seconda sia inconsapevole. In realtà le cose non stanno così e sono molto più complesse. Nel quaderno degli esercizi, o QDE, ti metterò alcune risorse che mostrano chiaramente perché le cose non siano così lineari. Ad esempio, Joseph Ledoux, nel suo ultimo libro, parla dell'emozione e dell'ansia come di una... parla, anzi, dell'emozione e dei sentimenti come delle rappresentazioni consce della nostra vita, quindi non inconsce. Però per noi è invece più semplice pensare che ci sia una parte conscia ed una parte inconscia, quindi questa è distinzione. E se vuoi essere ancora più scientifico, sai che abbiamo un sistema 1 ed un sistema 2 per usare la tassonomia o la classificazione di Daniel Kahneman, un altro Daniel molto importante. Il primo Goleman e questo Kahneman, tra l'altro, fanno anche un po' rima. Il sistema 1 sarebbe la parte inconscia ed emotiva, quella che pensa in parallelo, che elabora le informazioni al di fuori della coscienza ad una velocità strepitosa. Ed il sistema 2 è la parte razionale più lenta, ma anche più oculata, predisposta soprattutto agli aspetti razionali e logico-matematici. Giusto per intenderci, le oristiche di pensiero sono nel sistema 1, sono quelle che ti permettono di fare le cose velocemente, e il sistema 2 è quello che ti consente di diagnosticare quando stai usando quelle oristiche. Quindi, come vedi, sono due sistemi che funzionano in concomitanza, non si possono separare completamente. Se volessimo usare un'ulteriore vecchia distinzione, potremmo dire che si tratta di una separazione tra emisfero sinistro ed emisfero destro, che come sai è una separazione anche qui fittizia. Quindi, per la nostra semplicità, le mettiamo su questi due piani, immaginando che esista una razionalità pura, anche se non è vero, ed una emozione pura. Ok, Genna, quindi abbiamo queste due parti diverse che ovviamente collaborano, come dicevi. Però dicevi anche che è più complesso di così. Spiegati meglio. Sì, è vero, è più complesso, e ciò che ti sto mostrando è più una metafora che la verità psicofisiologica del tuo cervello. Ed è un piccolo errore che tutti facciamo, ma che, dalle mie osservazioni personali, può essere migliorato semplicemente, tenendo a mente questa separazione. Ora ci arrivo, eh? È davvero poco facile da semplificare questo passaggio, in modo da non ridurre esageratamente. Immagina, davvero, di avere due processi separati, uno razionale e uno emotivo. Ovviamente sai non essere così, però fai finta che sia così. Ora, immagina che improvvisamente ti si rompa il device, il cellulare o il computer, da cui stai ascoltando questa puntata. Fai tutti gli scongiuri se sei superstizioso, anche se sai che la superstizione non è così utile. Può essere il tuo cellulare o il tuo pc, ad esempio, come ti dicevo. Ora, secondo te, che tipo di processo devi utilizzare per mettere a posto, per ripararlo? Devi usare quello emotivo o quello razionale? Beh, so che è molto banale la risposta. Esatto, devi usare la razionalità. Se sei un tecnico, puoi utilizzarla, puoi usarla direttamente ed aggiustarlo con le tue manine, oppure portarlo dal tuo tecnico di fiducia. Ora, è ovvio che appena scopri che non funziona più, potresti arrabbiarti o rattristarti, quindi inserire un processo emotivo all'interno del processo razionale. Ed è chiaro che nella realtà di tutti i giorni le cose vadano così, cioè è questa tristezza e questa rabbia che ti spinge ad andare dal tecnico. Quindi vedi che c'è una collaborazione stretta tra emozione e razionalità. Però sai chiaramente che per quanto ti arrabbi, il tuo apparecchio non tornerà a posto. Hai bisogno di quell'altra parte, della razionalità, per metterlo a posto. Sì, Genna, però, se mi arrabbio o mi intristisco, sono davvero più motivato a portare il cellulare dal tecnico, altrimenti forse lo butto via. Sì, è vero, ed è proprio così che funzioniamo, con questo mix costante. Però converrà insieme a me che in quel contesto la cosa che conta maggiormente è richiamare gli aspetti razionali più che quelli emotivi. Per quanto le emozioni siano quella benzina motivazionale, ti servirà comunque la razionalità per mettere a posto il cellulare. Preparati perché tra poco arriva il bello. Proviamo invece a immaginare che un nostro amico, che un tuo amico, ti abbia profondamente deluso e che tu sia arrabbiato con lui per ciò che ha fatto. Questa faccenda è molto diversa dalla prima, è qualcosa di squisita competenza del lato emozionale. Però è chiaro che entri anche la razionalità a cercare di calmare le cose e magari inizi a dirti, ma no dai, vedi che ha fatto così e cos'ha perché aveva delle ragioni, perché gli è successo questo è quello. Insomma, iniziamo a raccontarcela razionalmente. Noi siamo bravissimi. Nella maggior parte delle volte funziona. Razionalizzare funziona ed è un meccanismo di difesa tutto sommato accettabile ed anche inevitabile. Sì, è inevitabile. Ci sono un mucchio di studi che dimostrano che se ti faccio fare qualcosa in modo involontario, magari ti faccio alzare in piedi utilizzando una stimolazione elettrica delle aree motorie del tuo cervello e poi ti chiedo perché ti sei alzato, la tua risposta sarà una razionalizzazione. Potresti rispondermi ne avevo voglia, sentivo un prurito sul sedere. Non risponderai di certo, guarda mi sono alzato perché ho sentito una stimolazione elettrica all'interno del mio cervello. Quindi la razionalizzazione è spontanea. Questo tra l'altro funziona anche con l'ipnosi. Quando noi troviamo un soggetto altamente suggestionabile, gli facciamo fare qualcosa al di fuori della sua volontà e poi gli chiediamo perché l'hai fatta, lui tenta di darsi una spiegazione che è una razionalizzazione. Quindi in quel caso tendiamo sempre a razionalizzare. Come ti mostravo nella puntata dedicata al miglior mindset per gestire le emozioni, questo processo potrebbe essere di intralcio. Cioè la razionalizzazione potrebbe bloccare la scarica, chiamiamola energetica, data dall'attivazione emotiva del tuo organismo. Quindi se razionalità ed emotività fossero completamente separati, potremmo dire che i nostri problemi derivino da un loro accavallamento. Quando dovresti chiamare un tecnico ti arrabbi e quando sei arrabbiato cerchi di essere tecnico con te stesso, di spiegarti le cose dal punto di vista della tua razionalità. Un esercizio molto potente quindi è provare a separare questi due processi. Cercare cioè di lasciare andare le attivazioni emotive senza cercare di metterci subito la razionalità ed affrontare le cose razionali mettendoci il minimo della emotività. O meglio, restando in compagnia dell'emotività ma andando verso la razionalità. Perché sappiamo che l'emotività non può essere controllata, l'abbiamo detto tante volte, puoi, le uniche cose che puoi controllare sono le tue, bravissimo, sono le tue azioni. Non puoi controllare i tuoi pensieri, non puoi controllare le tue emozioni, almeno non quel controllo diretto che ci piacerebbe tanto avere. Lo so, lo so, è solo una metafora, ma quando ha a che fare con emozioni davvero potenti e problemi davvero ingarbugliati diventa un'ottima strategia. Quindi fino a quando le emozioni sono piccole e poco attivanti va benissimo razionalizzare e cercare di capirle, ma quando diventano troppo intense cercare di capirle, analizzarle, non fa altro che farti diventare cieco, come aveva notato Paul Vazlavic, perché la loro forza ti fa letteralmente pensare male. Devi invece imparare a restare in loro compagnia o lasciarle andare, ad osservarle come abbiamo visto decine e decine di volte. Viceversa, se devi risolvere un grande problema razionale, come ad esempio un trasloco, il cambiare lavoro eccetera, devi metterti lì con carta e penna ed usare la tua razionalità al meglio. Quindi è chiaro che siano due processi spuri, ibridi. Non esiste un pensiero puramente razionale ed uno puramente emotivo, ma vederli in questo modo ti consente di evitare questo miscuglio tipico dei giorni nostri, dove la gente invece di risolvere crolla sotto le proprie emozioni ed invece di emozionarsi cerca di controllarsi. Questo è davvero evidente nello studio dello psicoterapeuta, dove vediamo chiaramente che sono i tentativi di controllo razionale delle emozioni a creare i danni più permanenti, o meglio, i danni più importanti. E cercare di pensare che esista il modo giusto di pensare per non soffrire più, il cercare di pensare che se provo con molta forza un'emozione uguale e contraria a stare o meglio, se ci pensi anche questa è una razionalizzazione. Quasi che le nostre emozioni e i nostri sentimenti siano come dei numeri, dove uno meno uno fa zero. Così se sono triste mi basta andare a vedere un film divertente con gli amici. Sì, è vero, funziona nuovamente se la tristezza è bassa, ma non se invece questa tristezza è travolgente. Invece lì devi osservarla, devi accettarla, restare in sua compagnia, non devi cercare di sfuggire da una tristezza travolgente. Ok, Jenna, se mi travolge però che cosa faccio? Che cosa devo fare? Esattamente quello descritto nel mindset di quel podcast che tra poco rivedremo insieme. Ti lasci travolgere senza cercare di spiegarla, senza cercare di nominarla o controllarla. Per questo ti ho detto di non dare nome all'emozione, di rabbia, no? È chiaro che è utile sapere che ti stai arrabbiando, ma non hai bisogno di sapere che si chiama rabbia piuttosto che irritazione. Sì, è vero, se la chiami irritazione ti darà meno fastidio. Infatti anche il lato, potremmo dire, concettuale può aiutarti a ristrutturare determinate emozioni, sempre quando sono piccole. Ma quando queste diventano grandi, invece, la cosa, l'allenamento migliore che tu possa fare è provare a separare mentalmente questi due processi ed affrontare le emozioni ed affrontare l'aspetto razionale adeguatamente. Semplice? No, non è semplice per nulla. Così come non è semplice ragionare senza inserire il processo emotivo. Ascoltare una pubblicità che ha una canzone che ci prende da quando eravamo bambini senza pensare che acquisteremo quel prodotto per quella colonna sonora e non perché sia realmente il miglior prodotto nel suo genere. Come vedi, questi miscugli sono sempre ingarbugliati tra di loro, questi due processi sono costantemente ingarbugliati. Bene, ho parlato fin troppo, spero che parte di questi concetti siano entrati dentro di te e adesso, come al solito, bando alle ciance ed iniziamo con i consigli di questa settimana. Primo, consapevolezza e accettazione. Quando senti di voler gestire al meglio le tue emozioni, la prima cosa da fare è notarle. Notare che siamo stati rapiti, che sei stato rapito dal processo emotivo. La seconda cosa da fare è diventare compassionevole e, la terza, è cercare di non scappare da quell'attivazione. Cercare di notare se tendi a razionalizzare, a metterci razionalità per spiegartela. È chiaro che in determinati casi puoi capire perché ti senti in un certo modo, ma non se l'emozione è troppo intensa. In quel momento metterci della razionalità, metterci del pensiero, è la strada verso quella che noi psicologi chiamiamo ruminazione, cioè le seghe mentali incontrollabili. In quel momento invece lascialo andare. E se non ci riesci, la cosa migliore da fare è utilizzare il nostro autobus. Ti ricordi? Mettilo nell'autobus e continua a guidare, anche se dentro di te noterai è una vocina che continua a dire risolvi quella cosa, cerca di capire, cerca di scaricarti, cerca di sentirti meglio. Evita di seguire il tuo pensiero razionale che dice scaricati, ma no dovresti piangere, ma no dovresti chiamare quella persona. No, fermati, osserva la tua emozione. Per farlo ovviamente ti serve la capacità di saper osservare le tue emozioni. E come probabilmente saprai, l'abilità più importante per questa capacità si chiama disidentificazione e la prendi all'interno di un buon percorso di meditazione. Secondo, il mindset del superconduttore emotivo. Eccolo qua. Nella puntata, adesso non ricordo di quale numero, ma nel quaderno degli esercizi, nel post te la inserirò, ti ho parlato di questa potentissima metafora che trovo molto utile e anche molto spendibile. L'ho utilizzata molte volte con successo. Come ti dicevo, le emozioni possono far scattare tutta una serie di seghe mentali su come risolverle, su come stare meglio. Ciò che invece ti propongo è lasciare andare il pensiero, chiamiamolo razionale, ed invece rivolgerti alla sensazione che stai provando in quel momento, che di solito è una sensazione fisica, la senti nel tuo corpo. Rivolgiti a ciò che senti qui ed ora, invece che pensare là e dopo. Ho il gioco e se, e se succede questo, e se... Quindi tutta quella parte razionale lì la lasci andare e ti rivolgi come ti senti, proprio fisicamente. E lasci che il processo faccia il suo corso. Questo vuol dire che il pensiero si spegne? No, assolutamente no. Mentre tu sei lì a contatto con la tua emozione, partono tutte le seghe mentali. Ma cosa stai facendo? Ma non sarà una cagata questa cosa, ma che ascolti quello lì su internet che ti dà questi... è una cosa importante l'emozione, ma non dargli retta. Ecco, tutte queste cose qua le lasci andare e torni su quella sensazione emotiva. E noterai che è come un'onda, arriva a un picco e se ne va. E se riesci a restare in contatto con quella sensazione senza spiegarla, senza scappare, sentendo questo picco che arriva e se ne va, ti assicuro che diventerai sempre più bravo a gestire le tue emozioni. Terzo, il pensiero razionale. Tutto questo non significa che devi mettere da parte la tua intelligenza, la tua intelligenza come la intendiamo qui in occidente, la razionalità nei confronti del mondo. Anche perché oggi tra fake news, persone che vogliono fregarci eccetera, è davvero pericoloso mettere da parte l'aspetto critico della nostra mente. Se lo fai volontariamente e non come difesa emotiva, la cosa è utile. È utile saper riconoscere come funziona la logica, le fallacce del ragionamento, il linguaggio, le euristiche di pensiero, la retorica, la comunicazione efficace e chi più ne ha più ne metta. È tutto utile. Basta non applicarlo al tuo mondo emotivo, almeno non farlo come soluzione alla gestione delle tue emozioni, perché si tratta di due piani diversi. Questa è un po' la tesi, o meglio la metafora, che ti invito a fare tua. È molto utile sia che tu ti senta una persona molto emotiva, sia che tu ti senta esageratamente razionale. Questa metafora funziona in entrambi i sensi, diventa più consapevole delle tue emozioni cercando di vederle per ciò che sono, dei processi dinamici che vanno e vengono, senza analizzarli necessariamente con la razionalità. Scoprirai che c'è una parte di te, che poi sei tu stesso, che è capacissima di gestire quella sensazione senza doversela spiegare razionalmente. La valutazione razionale del tuo mondo emotivo può essere fatta, ma a posteriori, dopo esserti fatto attraversare delle emozioni, averla lasciata andare senza bloccarla con la razionalità. Sembra facile, ma non è semplice. Quindi puoi pensare razionalmente alle tue emozioni, ma solo dopo, e senza cercare di fare l'analista di te stesso. Ah ecco, vedi, da bambino mi picchiavano sempre, è per questo che mi comporto così. A volte può essere utile, ma stai attento a farlo da solo, perché queste costruzioni mentali diventano delle realtà dentro di noi e poi ci crediamo, ci comportiamo di conseguenza. Per questo ti invito ad imparare ad osservare semplicemente il tuo mondo emotivo. E tutto questo come lo apprendi? Lo apprendi alla grande se sai come fare, se puoi aumentare la tua consapevolezza, la chiave di ogni crescita personale. Qui su Psynel diciamo da anni che la crescita personale fa rima con conosci te stesso. E per conoscere noi stessi dobbiamo imparare un certo tipo di consapevolezza. Qui su Psynel abbiamo un corso, è la Ferrari dei nostri corsi, è un percorso incredibile che è già stato seguito da oltre 130 persone con enorme soddisfazione. Si chiama MMA, ormai lo conosci, questa è la nostra terza edizione. Non farti ingannare dallo strano nome, Master in Meditazione avanzata. Se desideri imparare a gestire al meglio le tue emozioni e quindi di conseguenza diventare anche più bravo nell'utilizzo del tuo aspetto critico e razionale, clicca sul link dedicato ad MMA che troverai in descrizione o nel post. Oh molto bene ragazzi, allora siamo giunti al termine di questa puntata. Ti ringrazio per avermi seguito fino a questo punto, come sempre ti invito a venire su iTunes, a mettere il tuo mi piace, a condividere il post su Facebook, ad iscriverti alla community di Psynel sia attraverso lo scaricaggio, diciamo così, il download del report sulla meditazione avanzata che trovi gratuitamente, puoi scaricarlo andando su www.psicologianeurolinguistica.net o psinel.com. Come sempre resto a tua disposizione per qualsiasi domanda che ti invito a farmi o sui social oppure tra i commenti del blog in modo che tante altre persone possano avvantaggiarsi dall'eventuale risposta. Ti auguro una splendida giornata ovunque tu sia, magari sei con le cuffiette, se stai correndo, sei in palestra, sei da qualsiasi altra parte, è molto bello immaginare che tu sia in giro ad ascoltare il mio podcast. Ci sentiamo la prossima settimana, un saluto da Gennaro Romagnoli di Psynel.com. Grazie.